Don Fortunato di noto oggi all'Aquila nell'ambito delle iniziative del premio nazionale Borsellino in occasione della giornata contro la pedopornografia che non è solo un reato ma anche un grande affare gestito dalla mafia nei paesi più poveri del mondo. Tra i più attivi nella lotta c'è appunto Don Fortunato, sacerdote siciliano, fondatore dell'associazione METER da oltre 30 anni sul campo contro la pedopornografia in sinergia con la postale. Da una parte bisogna sempre alzare il livello per applicare le leggi che abbiamo, che sono all'avanguardia qui in Italia, dall'altra parte bisogna fare sempre una grande opera di prevenzione, di informazione, di parlare ai nostri minori che il corpo è un terreno inviolabile, che bisogna rispettarlo e farsi rispettare soprattutto e dire le cose come stanno. Il fenomeno è veramente un fenomeno enorme, trasversale, molto impegnativo, soprattutto basti pensare del report meter che noi ogni anno produciamo, ma sono i dati ufficiali che vengono confermati dalla Polizia Postale Italiana ma anche dalle altre polizie estere che noi abbiamo una collaborazione, ci dimostrano come il fenomeno è veramente esteso, quasi inquantificabile per quanto riguarda la produzione di materiale pedopornografico, quindi foto, video e poi anche perché internet favorisce la possibilità attraverso i social che vengono magari utilizzati senza criterio e senza sicurezza, la fonte primaria dell'adescamento dei nostri bambini, l'età si abbassa sempre di più, non soltanto per l'adescamento ma soprattutto, ahimè, per la produzione del materiale, non a caso ormai il fenomeno della cosiddetta infantofilia, cioè bambini neonati che vengono violati nella loro intimità, coinvolgono anche le cosiddette pedomame e quindi anche le donne, ahimè, in questi ultimi dieci anni stanno aumentando sempre di più che compiono abusi, ovviamente l'abuso è abuso da qualunque parte provenga. Il sindaco Pierluigi Biondi ha consegnato a Don Fortunato una targa per premiarlo nell'ambito dei premiati appunto del Premio Nazionale intitolato a Paolo Borsellino come segno di riconoscenza per il suo impegno e anche una maglia del premio stesso.